Dopo l'inaspettato annuncio della dolorosa separazione degli Oriele, la tensione sembra aver raggiunto anche la dimora dei prelemi. I devoti fan di Giulia Salemi, e Pierpaolo Pretelli, che hanno seguito con fervore, ogni singolo passo della loro travolgente storia d'amore, non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio intrigante, nella scorsa notte, i due si trovavano nello stesso ristorante, ma seduti a tavoli diversi. In un battito di ciglia, il famigerato sito D'Agospia ha scatenato il caos con la sua bomba mediatica, sembra che si siano separati. Come accennato in precedenza, già mesi fa circolavano voci di una possibile crisi nella coppia quando, durante la loro partecipazione al Grande Fratello Vip, fu la stessa Giulia a rivelare la situazione, che all'epoca sembrava essere stata superata. Tuttavia, nelle ultime ore, D'Agospia ha rivelato uno scoop. Che ha fatto tremare le fondamenta, affermando che Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi avrebbero posto fine alla loro storia d'amore. La testata di D'Agostino, ha addirittura definito Pretelli come il «ex signor Salemi». Ma la trama si infittisce, un osservatore attento ha confidato all'esperta di gossip, Dejanira Marzano, di averli incontrati casualmente nello stesso ristorante, ma di aver notato che non si sono nemmeno sfiorati. Lei sembrava triste, mentre lui, mostrava estroversione con tutti. Il mistero che avvolge la presunta rottura, si fa sempre più fitto, poiché non ci sono ancora conferme ufficiali da parte dei diretti interessati. La situazione si è complicata ulteriormente con la cancellazione di una storia pubblicata da un amico di Pierpaolo Pretelli, presente alla cena. Giampiero Colla, lo stesso amico, ha voluto fare chiarezza questa mattina affermando, la gente si lamenta che Pier abbia regalato rose a destra e a manca, o che si sia comportato come un Don Giovanni. Assolutamente non è vero. Ho prontamente rimosso il video forviante. È importante sottolineare che un video della serata mostra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli camminare fianco a fianco, diretti verso la stessa direzione, dunque potrebbe non esserci nulla di grave, oppure potrebbe essersi semplicemente scatenata una discussione, come accade in qualsiasi altra coppia. Anche Giampiero Colla, ha condiviso una storia per placare tutti i rumori sulla presunta rottura tra Giulia e Pierpaolo, affermando, mi ero dimenticato di dire che c'era anche Giulia. La situazione si fa sempre più complessa, e gli appassionati di questa coppia restano in trepidante attesa di ulteriori sviluppi. Rimanete connessi per scoprire la verità, dietro a questi avvenimenti e per conoscere il destino dell'amore tra Giulia e Pierpaolo. Il loro futuro potrebbe riservare sorprese, che nessuno si sarebbe mai aspettato. Lascia il tuo like se vuoi vedere altre news ed iscriviti al canale.